Nella prossima settimana, la rinomata sopopera Sturm der Lieben ci promette di trascinarci in un vortice di sentimenti e intrighi. Nell'area di Monaco, le serate autunnali del settembre 2023 porteranno con sé sussulti e rivelazioni inaspettate. Immaginate Yvonne ed Eric, con il calore delle candele che li circonda, cedendo all'inebriante richiamo della passione. Ma, come in ogni buon dramma, la felicità viene sfumata dall'ombra della tragedia, La Clee viene devastata dalle parole inaspettate del Vogt, che, ignorando il turbolento mare dei suoi sentimenti, pronuncia parole che la feriscono nell'anima. Paul, nel frattempo, è sull'orlo di una decisione che potrebbe cambiare il corso della sua vita, dire addio a constanze. Ma il destino ha altri piani. Una macchina, un incidente e la fatale casualità costringeranno il Lindbergh a riconsiderare tutto. E come se il cuore di Josie non fosse già sottoposto a stress, le viene dato di vedere constanze e Paul condividere un bacio furtivo. I sussurri e le ombre lungo i corridoi si intensificano. Henning, con il suo istinto affilato, sente che qualcosa bolle in pentola tra la Clee e il Lindbergh, portando Shirin in una tempesta di dubbi e insinuazioni. In un angolo diverso di Monaco, Michelle, con un tono persuasivo, cerca di convincere Andrea a parlare con Caroline e liberare l'appartamento che condividono. E mentre il dramma si dipana, l'eroico Max emerge come il salvatore dei Salfeld, riuscendo a mettere alle strette la sinistra ariane. Ma la baviera ha molte altre sorprese in serbo. In un momento cruciale, quando Paul è quasi pronto a camminare al sole con Josie, lasciando constanze alle spalle, le circostanze lo trascinano di nuovo nell'ombra. Nel mezzo di questo tumulto, le parole di Eric potrebbero gelare l'anima di Yvonne, mentre Michael, in un raro momento di vulnerabilità, potrebbe finalmente aprire il suo cuore alla Lamprecht. Non perdete ogni tappa di questo viaggio avvincente. Dalle 19.55 alle 20.30 su Rete4, ogni giorno, lasciatevi travolgere dall'Aubsturm der Liebe. Vi promettiamo che non rimarrete delusi. Nella puntata di lunedì 18 settembre 2023, l'atmosfera è carica di tensioni e segreti. L'interno del fienile è avvolto in una luce morbida che filtra dalle fessure del legno, creando un'aura magica. Michael, con il cuore palpitante, lotta con i suoi sentimenti crescenti per Caroline. Ogni volta che i loro sguardi si incrociano, sente un'attrazione irresistibile, ma sa che Rosalie, la sua attuale compagna, non meriterebbe un tradimento. Per cercare una soluzione, Michael si confida con André, un amico di vecchia data, e gli chiede un favore, persuadere Caroline a lasciare il fienile per evitare ulteriori complicazioni. Mentre André riflette su come affrontare la situazione, Caroline, ignara del tumulto interiore di Michael, gli presenta una squisita pietanza, preparata con maestria, come gesto di gratitudine per l'ospitalità offerta. Il profumo avvolgente del piatto conquista i sensi del dottore, che per un attimo si perde nella dolce compagnia di Caroline, dimenticando i suoi propositi. Ma, mentre il calore dell'atmosfera si fa sempre più intenso, Michael si rende conto dell'errore che sta per commettere e ripensa al suo piano iniziale. Questo cambio di atteggiamento non sfugge ad André, che, sentendosi tradito nella sua fiducia, decide di affrontare Michael, chiedendogli spiegazioni. Nel frattempo, l'aria fresca della campagna avvolge constanze mentre guida la sua auto lungo una strada solitaria. Improvvisamente, un coniglio balza sul suo cammino, e con un'abile manovra, la donna cerca di evitarlo, ma finisce fuori strada, schiantandosi contro un albero. Paul, che stava dirigendosi nello stesso posto, assiste alla scena e, senza pensarci due volte, corre in suo soccorso. Mentre la guida verso l'ospedale, i pensieri di Paul sono però altrove, voleva confessare a constanze i suoi veri sentimenti per Josie, ma ora tutto sembra così complicato. Josie, ignara di tutto, si trova ad aspettare ansiosamente il suo arrivo. Altrove, una piccola vittoria illumina la giornata di Max. Mentre percorre un sentiero nel bosco con la sua bicicletta, si imbatte nella sua telecamera perduta, scatenando in lui un'ondata di sollievo e gioia. Nella puntata di martedì 19 settembre 2023, un mistero avvolge l'aria. Il Richter, dopo aver messo a posto un apparecchio, si imbatte in una registrazione inaspettata. La scena catturata dalla videocamera è oscura e indefinita, mostrando un incontro clandestino tra due individui, le cui identità sono avvolte nell'ombra. Il fruscio di sottofondo e l'audio distorto rendono ancora più difficile la comprensione. Con un senso di crescente curiosità, Max si rivolge a Vanessa, esperta in tecnologie audiovisive. Vanessa, con la sua abilità, mette a punto l'audio e, attraverso un'analisi approfondita, fa una scoperta sconvolgente, che potrebbe cambiare il corso degli eventi nella cittadina. Nel frattempo, in un ambiente più leggero e gioioso, Alphonse si immerge nella cultura giapponese. Ha deciso di preparare una cena esotica per la sua amata Hildegard. E, per rendere la serata ancora più speciale, invita anche Jerry, un amico di lunga data. Mentre il cibo si cuoce lentamente, Alphonse insegna a Jerry l'arte di usare le bacchette. Dopo diverse risate e qualche pasticcio, Jerry ha un lampo di genio, che promette di aggiungere un tocco inaspettato alla serata. Allo stesso tempo, Yvonne ed Eric, con i cuori colmi di compassione, decidono di portare un po' di gioia nella vita di Josie, sconvolta dalla complessa relazione tra Paul e Constanze. Organizzano una festa intima e familiare, ma, inaspettatamente, scoprono che la Klee è già fuori con Shirin per una serata al cinema. Non volendo sprecare la serata, la coppia decide di trascorrere del tempo insieme. La notte, avvolta in una luce argentata, è il palcoscenico perfetto per la magia. Mentre Yvonne ed Eric si avviano verso casa, un vento improvviso porta con sé un profumo familiare e un ricordo. Si fermano, gli occhi negli occhi, e, in un momento sospeso nel tempo, sono nuovamente sull'orlo di un bacio appassionato. La puntata si conclude con questa scena, lasciando gli spettatori in trepidante attesa per il prossimo episodio. Mercoledì 20 settembre 2023 Il salotto degli Salfeld è avvolto in una luce tenue quando Max, sotto la fervida spinta di Vanessa, presenta a Werner e Christoph la registrazione inaspettata. Il video, cristallino e inquietante, mostra Ariane, la dark lady della città, in una conversazione intensa con una figura ombrosa. Le parole si perdono nel rumore di sottofondo, ma le intenzioni sono chiare, Ariane sta tramando. Ma la sorpresa principale non è il video. È la riluttanza delle forze dell'ordine nel cooperare, portando i tre uomini a mettersi in gioco personalmente. Durante una delle sue esplorazioni alla ricerca di indizi, Max fa una scoperta sconcertante che potrebbe essere la chiave per esporre Ariane. Paul, nel frattempo, è un vortice di emozioni. Confessa a Josie il suo desiderio di stare con lei, pur rimanendo accanto a Constanze fino al suo completo recupero. Ma Josie non può fare a meno di dubitare delle sue parole, soprattutto quando vede Constanze e Paul condividere un intimo momento. Christoph e Werner, armati delle nuove prove, sfidano le autorità, decisi a tendere una rete per catturare Ariane. Giovedì 21 settembre 2023 L'aria è tesa nella villa Salfeld quando Ariane, astuta come sempre, fiuta il piano contro di lei. Si dirige verso Christoph con passi decisi, occhi fiammeggianti. L'incontro tra i due è carico di tensione, con rivelazioni e scontri verbali. Michael, nel suo piccolo universo di emozioni tumultuose, è ancora alle prese con i suoi sentimenti contrastanti per Caroline. Andre, in un tentativo comico di aiutarlo, mette in scena un piano basato sulle presunte avversioni di Caroline. Prendendo in prestito un vecchio violino, si mette a strimpellare melodie stonate nel fienile, sperando di far fuggire Caroline. Ma il risultato è esilarante e totalmente inaspettato. L'amore, come sempre, ha i suoi alti e bassi. Eric e Yvonne, dopo una notte di passione, si ritrovano sul filo del rasoio delle emozioni. La dichiarazione di Eric sconvolge Yvonne, che decide di affrontarlo. Josie, nel suo angolo di tristezza, si ritrae dal mondo, ferita nel profondo dall'immagine di Paul e Constanze uniti in un bacio passionale. La puntata si chiude con un'atmosfera di sospensione, promettendo ulteriori sviluppi nel prossimo episodio. Venerdì 22 settembre 2023. Il cuore di Paul è pesante di rimorsi mentre si avvicina a Josie, cercando le parole giuste per scusarsi. Gli occhi della ragazza riflettono il dolore, e lui si affretta a giustificare il suo bacio con Constanze come un atto di necessità per non insospettirla. Desideroso di riconquistarla, Paul elabora un piano per portarla in un rifugio alpino, sperando che l'atmosfera intima e romantica li avvicini di nuovo. Ma ciò che nessuno dei due sospetta è l'ombra minacciosa di Henning, che li segue in silenzio, portando un'oscura minaccia per Josie. Più tardi, un altro dramma familiare irrompe nella vita di Josie quando scopre segreti nascosti tra i suoi genitori. Non volendo essere una pedina nel loro gioco, chiede di non essere coinvolta nel loro caos emotivo. Michael, nel frattempo, si ritrova in un vortice di emozioni. I tentativi di André di allontanare Caroline da Bic Lime sono falliti, e Michael è costretto a fare i conti con la realtà. Decide che è giunto il momento di aprire il suo cuore a Caroline e confida in lei i suoi veri sentimenti. Sabato 23 settembre 2023 L'umore in città è teso. Caroline, sentendo il peso della situazione con Michael, cerca di trovare un altro posto dove stabilirsi. La questione che preoccupa tutti è se Rosalie sospetterà della situazione. Josie, nel frattempo, è immersa in un altro tipo di dilemma. Ha l'importante compito di creare un dessert impeccabile per un gruppo di giudici cioccolatai. Hildegard, vedendo l'ansia di Josie, le tende una mano amica. Ma un imprevisto si presenta quando Alfons, ignaro del valore del dessert, lo divora durante una pausa pranzo. Nella frenesia di cercare di rifare il dessert, Hildegard si rivolge all'esperto André per un aiuto d'urgenza. La tensione raggiunge il culmine quando Ariane, in uno stato di furia cieca, trama un attentato al Furstenhof. Grazie ai rapidi interventi dei Salfeld, Max e della polizia, una potenziale tragedia viene evitata. Ariane viene rapidamente arrestata, e l'atmosfera nell'hotel torna lentamente alla normalità sotto l'occhio vigile di Alfons. Ma la pace è breve. Un giornalista arriva per intervistare Christophe. Ma è Yvonne, audace e senza paura, a rispondere alle domande in sua assenza. Le sue risposte provocatorie creano un'ondata di scandalo, lasciando tutti in attesa dei prossimi sviluppi. Domenica 24 settembre 2023 Il sole inizia appena a riscaldare la fresca mattina alpina quando Henning affronta Paul, l'aria densa di sospetto. Che ci facevi al rifugio con Josie, domanda con un tono accusatorio. Ma Josie, con una prontezza di spirito che sorprende anche se stessa, risponde in modo convincente, mettendo momentaneamente a tacere i dubbi di Henning. In città, Shirin si trova in una spirale di conflitto interiore. Essere l'ancora di salvezza per la sua amica la sta esaurendo, e mentire al suo ragazzo sta diventando sempre più pesante. La pressione diventa quasi insostenibile. Mentre Ariane viene interrogata dalla polizia, il suo sguardo sembra perdersi lontano. Il peso delle circostanze la spinta al limite, e un'ondata di nostalgia la travolge. Rivive i momenti felici trascorsi con Eric, un contrasto stridente con la sua attuale realtà. Eric, al contrario, si sente come se avesse finalmente tagliato un legame tossico, ma non può evitare di guardare indietro quando Ariane trova un modo per contattarlo. La sua voce tremante gli comunica il desiderio ardente di riaverlo nella sua vita, sperando che possa essere la chiave per cambiare il suo destino. Nel frattempo, Jerry, ispirato dall'impresa romantica di André, decide di seguire il suo cuore. Vuole sorprendere Merle ad Hamburgo. Ma Eric, conoscendo la storia di Merle e la sua lotta contro la gelosia patologica, esprime le sue preoccupazioni. Jerry è incerto su quale percorso seguire, quindi decide di cercare un consiglio da Caroline, sperando che la sua perspicacia possa offrire una nuova prospettiva sulla situazione. Anticipazioni Tempesta d'Amore, puntate tedesche, gli ingarbugliati sentieri del cuore. La Germania sembra essere teatro di un turbinio di emozioni, e l'atmosfera elettrica a Sturm der Liebe. L'Ale Ceylan, una figura affascinante e vibrante, si trova di fronte a una svolta emotiva. La sua crescente preoccupazione per Theo Licht la porta a cercare aiuto da una fonte inaspettata, Linder Salfeld. Linder, noto per la sua competenza medica, diventa il faro di speranza per l'Ale. Ma le acque sono agitate, perché nel cuore di Robert Salfeld soffia un altro tipo di tempesta. L'offerta lavorativa dall'Italia è un'opportunità che non può rifiutare. Ma come può abbandonare Furstenhoff, soprattutto ora che scopre che la sua nuova fiamma, Nicole Alvis, ha occhi solo per Michael? La narrativa prende una piega ancora più interessante quando l'Ale, fresca nel suo ruolo di fitness trainer al Furstenhoff, si trova faccia a faccia con il suo incubo. L'ombra di un uomo misterioso la tormenta, ma come ogni eroina determinata, decide di affrontare le sue paure. La rivelazione che è Theo, il nuovo facchino dell'hotel, a perseguitarla, rende la situazione ancora più intricata. Ma come in ogni bella storia, il primo incontro sfortunato si trasforma in una connessione profonda. L'affetto nascente tra l'Ale e Theo si svela con un ritmo delicato. La scoperta della profonda sensibilità di Theo da parte di l'Ale rivela un lato del giovane facchino che pochi conoscono. E mentre l'Ale inizia a sprofondare in questo vortice d'amore, si rende conto che dietro l'aura di mistero di Theo si nasconde qualcosa di profondamente turbato e oscuro. Ma cosa può essere? Il dramma di Sturm der Liebe sta per diventare più appassionante che mai. Rimanete sintonizzati sulle prossime anticipazioni per scoprire il segreto di Theo e vedere dove porterà questa burrascosa storia d'amore. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche, l'inevitabile intreccio di cuori e destini. Le complicazioni della vita amorosa a Sturm der Liebe raggiungono nuove vette con il tormento di Theo Licht, che porta con sé il peso di un'infanzia burrascosa. L'Ale, determinata nel suo intento di aiutarlo, affronta numerose sfide emotive mentre cerca di superare la barriera eretta dal giovane traumatizzato. La loro dinamica va avanti e indietro, dai momenti di pura connessione a quelli di tensione. L'intervento di Lindersalfeld in questa delicata situazione rende le cose ancora più intriganti, poiché la sua esperienza e la sua saggezza vengono messe alla prova. In un'altra svolta emozionante, il cuore di Nicole Alvis viene tirato in diverse direzioni. La narrazione presenta Robert Salfeld, un pilastro di tempesta d'amore, alle prese con una possibile partenza verso l'Italia, suscitando domande sulla sua relazione con la dolce e melodiosa Nicole. Ma, come se questo non fosse abbastanza complicato, l'intrigante medico Michael entra in gioco con un approccio unico per corteggiare Nicole, e-mail misteriose che lasciano una scia di speculazioni e sentimento. Con Robert e Michael che cercano l'affetto di Nicole, i cuori vengono messi alla prova e le lealtà vengono messe in discussione. Questa complicata danza d'amore viene ulteriormente intensificata quando il giovane Noah entra nella storia, avendo conosciuto Nicole in passato. Con così tanti intrecci e trame complesse, la diciannovesima stagione di Sturm der Liebe promette drama, emozioni e momenti che lasceranno il pubblico senza fiato. Come si svilupperanno queste storie e come finiranno i complicati affari del cuore? Ci sarà una soluzione soddisfacente per tutti. Questi e molti altri interrogativi ci tengono sulle spine mentre aspettiamo con ansia le prossime puntate. Resta sintonizzato e scopri come queste storie appassionanti si sviluppano. Il torbido triangolo amoroso a Sturm der Liebe, cuori divisi e scelte complesse. In una svolta inaspettata della trama, la relazione fra Robert Salfeld e Nicole Alvis si infiamma. La lealtà viene messa alla prova quando l'affetto di Nicole sembra spostarsi tra il medico Michael e Robert. La scoperta di email poetiche porta a una serie di equivoci e rivelazioni, che danno una piega nuova al già complesso tessuto delle relazioni. Il sacrificio di Robert, che rinuncia a un'opportunità di lavoro allettante dall'Italia per Nicole, è una testimonianza del suo profondo affetto per lei. Ma, anche in mezzo a tale gesto romantico, l'ombra di Michael persiste, sollevando la questione, Chi detiene veramente il cuore di Nicole? Le dinamiche del loro rapporto si complicano ulteriormente con la proposta di Robert di condividere un appartamento. L'esorbitante reazione di Nicole pone una domanda fondamentale, è davvero innamorata di Robert, o è irrevocabilmente attratta da Michael? Come si evolverà questa intricata storia d'amore? Le voci suggeriscono che Robert potrebbe partire per l'Italia, ma ciò sarà un addio definitivo o semplicemente un arrivederci temporaneo? Ma, le rivelazioni non finiscono qui. La prossima settimana promette ulteriori colpi di scena a Sturm der Lieve. L'intervista di Yvonne porta a ripercussioni che mettono il Furstenhof in una luce negativa, e la trama si infittisce con il ritorno di vecchi personaggi e nuove sfide. Christophe, per esempio, affronta problemi di salute che potrebbero cambiare il corso della sua storia. La grande domanda resta, come si svilupperanno questi eventi? Rimanete sintonizzati per scoprirlo e immergetevi nel mondo avvincente di Sturm der Lieve. Fino alla prossima volta, con affetto e curiosità.